Il video Driving Inspiration Light Up The World che era stato ammesso a partecipare al 18esimo International Family Film Festival a Hollywood ha vinto il primo premio nella categoria animazione giovani. Il video è stato realizzato in vista delle Parolimpiadi 2012 coinvolgendo nella produzione i bambini e gli atleti parolimpici di 12 paesi nel mondo tra i quali anche San Marino con il suo portacolori Cristian Bernardi e la classe quinta elementare di Falciano. In particolare 495 bambini disabili e non e ragazzi di 24 scuole nei vari paesi hanno collaborato con artisti, animatori sordi, atleti parolimpici e musicisti disabili soffermandosi sui valori delle Parolimpiadi e sulla creazione di un viaggio per la torcia parolimpica. Le scuole di tutto il mondo hanno così collaborato producendo disegni, storyboard e le idee musicali. Grazie. 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 Grazie.